In una frase, cos'è per lei il paziente anziano? Nel mondo scientifico viene comunemente considerato anziano un soggetto con un'età superiore ai 75 anni da non confondersi con il soggetto fragile, la cui definizione è molto più dibattuta e complessa un soggetto fragile può non essere anziano così come un soggetto anziano può non essere fragile Quanto è frequente trovare insufficienza renale nel paziente anziano? Sicuramente è molto frequente, le casiste che mostrano percentuali che vanno dai 50% agli 80% nella maggior parte dei casi si parla di soggetti con insufficienza renale di stadio 3 quindi con un filtrato tra i 30 e i 59 ml minuto quando si parla invece di pazienti dializzati le casistiche variano da 0,5% a 2% L'insufficienza renale rappresenta una problematica che la guida nella scelta dell'anticoagulante? Sì, sicuramente In base a cosa decide come anticoagulare il paziente con insufficienza renale? È noto che al diminuire del filtrato aumenta il rischio tromboembolico così come che è chiaro che a una diminuzione del filtrato corrisponde a un aumentato rischio di sanguinamento In questo caso la scelta dell'anticoagulante ricade sicuramente sui nuovi, se così possiamo ancora chiamarli anticoagulanti che hanno mostrato una maggiore sicurezza e almeno una non inferiore efficacia rispetto all'inibitore della vetiamina K Non abbiamo ancora dati forti relativamente a pazienti in dialisi ma ci sono studi in corso Nella scelta del tipo dell'anticoagulante il consiglio è quello di rispettare la farmacocinetica dell'anticoagulante evitando quindi farmaci che la cui eliminazione sia strettamente dipendente dal rene Sicuramente bisogna rispettare le linee guida e la scheda tecnica nella scelta del farmaco e del dosaggio corretto ed è fondamentale rivalutare il filtrato soprattutto nei pazienti che presenti in un filtrato borderline Quali sono le caratteristiche che deve avere un farmaco di prima scelta nel paziente anziano? Sicuramente deve essere un farmaco sicuro, efficace, possibilmente deve avere poche interazioni farmacologiche e se possibile deve essere in monosomministrazione affinché vi sia la migliore possibile aderenza terapeutica